Facciamo spazio davanti alla chiesa. Grazie. 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 Procediamo con la processione. Mi raccomando, il popolo ai lati della strada, in fila A per due. Andiamo alla processione di giusto decoro. Procediamo in pace. E ora facciamo parte. Un po' più avanti. Un po' più avanti. La croce avanti. 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 Simientocare. Avanti. Un po' più avanti. Un po' più avanti. Approforziamo landisla. Un po' più avanti. Un po' più avanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.